Cosa sono quelle grida? La regina mia signora è morta. Sarebbe pur morta un giorno o l'altro. Il tempo per quella parola sarebbe pur dovuto venire. E domani, 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 striscia piccoli passi di giorno in giorno. Fino all'ultima sillaba del tempo prescritto. E tutti i nostri ieri hanno illuminato il cammino dei pazzi verso la morte polverosa. Spegniti, spegniti, breve candela. La vita non è che un'ombra che cammina. Un povero attore che si pavoneggia per un'ora sul palcoscenico di cui poi non si sa più nulla. È un racconto narrato da un idiota, pieno di strepiti e furore. E senza alcun significato.